Dopo un duro lavoro di restyling durato più di due anni, da sabato 7 luglio i pendorali della Val d'Arda potranno giufruire della nuova stazione di Fiorenzuola, con una nuova sala d'attesa e una nuova biglietteria, quest'ultima già in funzione da diverse settimane. L'inaugurazione si terrà alle 10.30 sabato 7 luglio alla stazione di Fiorenzuola d'Arda, alla quale parteciperanno il sindaco Giovanni Compiani e Vincenzo Cefaielli, responsabile delle stazioni dell'Emilia Romagna.